Oggi vediamo insieme come aprire una mela grana. Riuscire ad aprire questo frutto e sgranarlo senza sporcare nulla. Praticare un taglio nella parte superiore per eliminare la corona. Rotolare il frutto. Incidere la scorza senza scendere in profondità. A questo punto praticare dei tagli laterali. Posizionare la metà del frutto all'interno della mano. Battere la scorza con un cucchiaio, anche un cucchiaio di legno. Man mano tutti i chicchi cadranno all'interno della ciotola. Oltre ad essere gustati semplicemente, i chicchi di mela grana possono essere inseriti in tantissime ricette. Per estrarre il succo basta inserire i chicchi di mela grana all'interno di uno schiacciapatate, in questo modo. Oppure salta tutto il video e vai direttamente con uno spremiagrumi. La mela grana è un ottimo drenante e ricca anche di antiossidanti, vitamina C e polifenoli.